è la fine del 1991 e per bruce spring si apre un futuro radioso specialmente dal punto di vista personale sta per avere un figlio dalla sua nuova compagna e futura moglie Patti Schiaffa la sua ex corista e insomma sembra proprio che il periodo brutto l'abbia lasciato alle spalle pubblica due album abbinati tra di loro Lucky Town e Human Touch nei quali lascia a casa i suoi vecchi amici della East Street Band anche se questa separazione durerà poco la canzone che apre questi lavori è davvero piena di speranza e di ottimismo lui davvero conta di vivere better days, giorni migliori e infatti nel ritornello canta di sentirsi a metà strada verso il paradiso ma di aver lasciato ormai l'inferno a un chilometro di distanza insomma una specie di augurio per tutti noi a vivere giorni migliori la canzone di 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 vivere giorni migliori Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.